Capitolo 27 Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo, tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire, e legatolo, lo menarono via, e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che l'avea tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì, e riportò i trenta sicli d'argento ai capi sacerdoti e dagli anziani, dicendo, Ho peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero, Che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, lanciati i sicli nel tempio, s'allontanò, e andò ad impiccarsi. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli, dissero, Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché son prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servir di sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fino al dì di oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora, sadempì, quel che fu detto dal profeta Geremia. E presero i trenta sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo, messo a prezzo dai figliuoli di Israele. E li dettero, per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Or Gesù, comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo, Sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse, Sì, lo sono. E accusato da capi sacerdoti e dagli anziani, non disse nulla. Allora Pilato gli disse, Non ho di tu quante cose testimoniano contro di te. Ma egli non rispose neppure una parola, tal che il governatore se ne maravigliava grandemente. Or, ogni festa di Pasqua, il governatore soleva liberare alla folla un carcerato qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro, Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù, detto Cristo? Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Or, mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire, Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion sua. Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro, Qual de due volete che vi liberi? E quelli dissero, Barabba. E Pilato a loro, Che farò dunque di Gesù, detto Cristo? Tutti risposero, Sia crocifisso. Ma pure, riprese egli, Che male ha fatto? Ma quelli vie più gridavano, Sia crocifisso! E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani, in presenza della moltitudine, dicendo, Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo, rispondendo, disse, Il suo sangue sia sopra di noi e sopra i nostri figlioli. Allora, egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora, i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la coorte. E, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto. E, intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, e una canna nella man destra. E, inginocchiatisi dinanzi a lui, lo beffavano dicendo, Salve, re dei giudei! E, sputandogli addosso, presero la canna, e gli percuotevano il capo. E, dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto, e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo melaron via, per crocifiggerlo. Or, nell'uscire, trovarono un cireneo chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E, venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte, e, postesi a sedere, gli facevano quivi la guardia. E, al di sopra del capo, gli posero scritto il motivo della condanna. Questo è Gesù, il re dei giudei. Allora, furon con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E coloro che passavano di lì, lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo, Tu che disfai il tempio, e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso, se tu sei figliuol di Dio, e scendi giù di croce. Similmente, i capi sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano, Ha salvato altri, e non può salvar se stesso. Da che è il re d'Israele, scenda ora giù di croce, e noi crederemo in lui. Se confidato in Dio, lo liberi ora. Se lo gradisce, perché ha detto, son figliuol di Dio. E, nello stesso modo, lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Or, dall'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona, Gesù gridò con gran voce. E lì, e lì, la masa bactanì. Cioè, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano, Costui chiama Elia. E subito, un di loro corse a prendere una spugna, e inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diede a bere. Ma gli altri dicevano, Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato, con gran voce, rende lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano, risuscitarono, ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città, ed apparvero a molti. E il centurione, e quelli che, con lui, facevano la guardia Gesù, visto il terremoto, e le cose avvenute, temettero gravemente, dicendo, Veramente, costui era figliuol di Dio. Ora, qui vi erano molte donne, che guardavano da lontano, le quali avean seguitato Gesù, dalla Galilea, per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena, e Maria, madre di Giacomo e di Iose, e la madre dei figliuoli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco da Rimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anche egli discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora a Pilato, comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un panno di lino netto, e lo pose, nella propria tomba nuova, che aveva fatta scavarne la roccia, e dopo aver rotolata una gran pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Or, Maria Maddalena e l'altra Maria, erano quivi sedute di rimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti, ed i farisei, si radunarono presso Pilato, dicendo, Signore, ci siamo ricordati, che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse, dopo tre giorni, risusciterò. Ordina dunque, che il sepolcro sia sicuramente custodito, fino al terzo giorno, che talora, i suoi discepoli, non vengano a rubarlo, e dicono al popolo, è risuscitato dai morti, così, l'ultimo inganno, sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro, avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi, andarono, ad assicurare il sepolcro, sicillando la pietra, e mettendovi la guardia.